da meloni mia facoltà prego una riforma congegnata per salvare le banche tedesche zeppe di derivati con i soldi degli europei e degli italiani e per introdurre il principio fermati 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 mannaggia non è vero non è vera a parte che anche le banche italiane stanno messe benissimo ma vabbè lasciamo questo discorso il backstop come ho spiegato anche nel podcast da una linea di credito non alle banche ma al fondo all'sfr che è un fondo costituito dai soldi delle banche e il mess che si finanzia dai mercati finanziari può dare un ulteriore credito a questo srf che è finanziato delle banche stesse per l'appunto quindi in tutto questo procedimento signora Giorgia Meloni dove diavolo sono i soldi italiani in tutto questo meccanismo dove sono i soldi europei e poi perché sei in quattro terzi Giorgia Meloni nel 2020 è falso che i soldi italiani salvano le banche tedesche aspetta che è entrata nei servizi pubblici tedeschi e sa anche le tappe del piano tedesco sentiamo prima tappa modifica del mess con introduzione del principio della ristrutturazione del mess modifica del mess check poi seconda tappa accesso dell'italia al mess sanitario che ha le condizionalità perché curiosamente il trattato su questo non viene modificato che sono la spesa per la sanitario e poi commissariamento dell'italia con annessa cura greca che vuol dire taglio degli stipendi taglio dei servizi taglio delle pensioni e introduzione della patrimoniale che bella la cura greca eh prima ci ricattavano usando lo spread adesso ci ricattano usando i soldi che servono a combattere il covid e questa sarebbe presidente Fico l'Europa amorevole e giusta alla quale tutti questi poteri forti che si sono lasciati sfuggire l'arma dello spread e sono dovuti hanno dovuto ripiegare verso i soldi della pandemia effettivamente se ci pensiamo la pandemia è molto più forte dello spread quindi forse sono davvero forti questi poteri forti la realtà è che l'accordo su recovery fund a luglio è stato sottoscritto all'unanimità anche con il consenso di Polonia e Ungheria e che poi sono dopo quell'approvazione altri paesi che cercano di modificare quell'accordo per farlo saltare perché non lo hanno mai voluto con la scusa dello stato di diritto ma non è assolutamente oh mio dio oh mio dio che falsità no 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 e fin dall'inizio avevano no no cioè è un problema questo dello stato di diritto risaputo da anni e proprio in questo senso hanno trovato l'occasione giusta per cercare di risolverlo proprio mettendo come condizione già da luglio in realtà come condizione quello di rispettare lo stato di diritto che poi in realtà appunto se dobbiamo dire la tua età a luglio ci sono stati degli screzi riguardo proprio questo punto qui e quindi il fatto dello stato di diritto è stato proposto poi si vedeva che c'erano appunto delle ritorsioni e quindi hanno detto vabbè dai poi vediamo sostanzialmente questo è accaduto però si sapeva già da luglio in realtà che accadeva qua ciò poi a metà metà novembre se non no quando è stato sì insomma tra ottobre e novembre adesso non ricordo esattamente la data il Parlamento Europeo ha proposto ha rafforzato questa condizione qui cioè è stato proprio il Parlamento Europeo che è eletto dal popolo questa volta almeno questo lo possiamo dire è stato proprio il Parlamento Europeo a spingere su questo fatto e quindi a rafforzare questa cosa dello stato di diritto che all'interno dell'Eurogruppo era stata lasciata un po' in disparte perché erano nati dei disaccordi poi è arrivato il Parlamento Europeo che ha detto no no ragazzi questa cosa la dovete mettere altrimenti non votiamo la Next Generation New perché per attivare la Next Generation New devi avere il voto anche del Parlamento Europeo grazie mille Oclean0018 benvenuto e quindi dopo che il Parlamento Europeo si è impuntato su questa cosa è nato e lo stallo nell'Eurogruppo tra Polonia e Ungheria e tutti gli altri paesi ma quella che ha detto è una completa falsità non sono gli amici della Meloni che bloccano i recovery fund no sono i paesi frugali quelli che non l'hanno mai voluto e che stanno inventando qualsiasi espediente ma ragazzi questa cosa non è vera anzi addirittura sono pensato di fare un Next Generation New a parte quindi escluso dall'Unione Europea escludendo Polonia e Ungheria cioè veramente si è pensato di creare un Next Generation New al di fuori dell'Unione Europea proprio per escludere Polonia e Ungheria addirittura sembrerebbe che la Germania la Germania eh la Germania cattiva probabilmente è riuscita a trovare un accordo proprio con Polonia e Ungheria in modo che possa procedere il Next Generation New quindi è completamente falso è fuori dalla realtà cioè alla fine se Ungheria e Polonia mollano lo stato di diritto verrà utilizzato per sempre come arma di ricatto verso governi non allineati alla cupola europea anche l'Italia Giorgia ma ahhh ma insomma o non lo sa o finge di non saperlo cosa significa veramente rispettare lo stato di diritto perché sono cose molto semplici in realtà cioè tipo appunto non reprimere l'opinione pubblica i giornalisti non mettere a capo di determinate istituzioni solo i politici di favore non reprimere le minoranze del gender cioè sono cose molto semplici da rispettare non è che la cupola europea ti sta inventando il finimondo non veramente non capisco cosa trovo di così eclatante in tutto ciò e ripeto il problema esiste da sempre se invece Ungheria e Polonia non cedono allora il recovery fund non parte e sarà un'occasione in più per far accedere l'Italia al MES dopo averlo modificato con l'introduzione del principio della ristrutturazione del debito anche questo non c'è ah adesso mi pazzisco c'era anche prima il principio della ristrutturazione del debito se una nazione non può pagare allora quel debito si ristruttura c'era anche prima della riforma questa cosa qui infatti la Grecia ha ristrutturato una parte del suo debito e stiamo parlando del 2011 la cosa che cambia nel processo di ristrutturazione sono le famose CACS di cui abbiamo parlato molte volte e che rendono sostanzialmente il processo di ristrutturazione più semplice e come abbiamo visto nel vecchio video di ormai un anno fa questa cosa non comporta dei tassi di interesse più elevati da parte dello Stato e sui titoli di Stato tra l'altro come vi dicevo ho visto anche il discorso di di Borghi in questo senso sulle CACS eccetera eccetera perché un'obiezione cioè perché si è fatta queste CACS perché in alcuni casi come ad esempio quello argentino alcuni investitori mettevano il bastone fra le ruote a questa ristrutturazione e quindi rallentavano tutto il processo perché ovviamente loro investitori ovviamente quelli più grandi e quelli più facoltosi ovviamente non volevano perdere dei soldi e quindi si opponevano a gran forza pochi investitori su tutti gli altri e questo praticamente creava uno stallo nella situazione che aggravava la crisi sostanzialmente e quindi si introducono queste CACS che appunto impediscono a pochi investitori pochi grandi investitori di rallentare il processo di ristrutturazione perché renderebbe semplicemente tutto il processo molto più costoso e come non lo so è come quando togli il cerotto quando togli il cerotto molto come si dice faccio faccio subito strappo strappo improvviso così senti il dolore una volta e poi basta quello sono le CACS senza CACS invece potrebbe accadere che io ti strappo il cerotto man mano e tu continui a sentire il dolore per molto più tempo banalizzato ovviamente però il concetto è quello e Borg diceva eh ma grazie a Dio che gli investitori si oppongono perché uno Stato non dovrebbe fallire peccato che succede succede sia che gli investitori si oppongono e rendono più grave la situazione e succede anche che gli Stati falliscono veramente fuori dal mondo cioè vivono una propria realtà e pretendono che questa personalissima realtà debba essere applicata anche alla vera realtà chi è Ivan? Ivan Griego intendi? a me piacerebbe molto partecipare anche perché secondo me è un po' debole su quella tua economica niente è così flaming oggi no sto scherzando ovviamente però non è il suo lavoro quindi ci sta io non riesco io non riesco a seguire tutte le cose che Giorgio sa avrei quelle della Meloni con informazioni c'è gente che le segue e quell'idea ha perché si vide la sua bontà sì sì ma infatti io non non me la prendo con le persone che seguono la Meloni io me la prendo con la Meloni che dice cose fuori dal mondo completamente non ha non ha alcun senso veramente basta seguire io poi giustamente come dici anche tu la seguo cioè non la seguo Giorgio Meloni seguo la cosa succede in Europa tutte le cose economiche quindi mi basta poco per capire cosa sta dicendo però veramente ad esempio quella cosa che lo stato di diritto è stata emessa dopo per far dagli stati del nord per far fallire il Next Generation EU è una visione completamente folle non ha non ha alcun senso non ci arrivate perché non siete abbastanza intelligenti o perché non siete abbastanza liberi giustamente Gianmarco sottolinea la Meloni che parla di libertà citando Ungria e Polonia che secondo lei stanno facendo qualcosa di normalissimo e che anzi lo stato di diritto è qualcosa di anormale ok che non hanno prezzo non scegliete anche stavolta la Mastercard grazie anche qui meno di Paragone di Borghi anche qui richiama il momento storico che potrete salvare l'Italia addirittura Borghi ha detto questo è uno di quei pochi momenti in cui potete cambiare la storia qualcosa del genere che è fantastico cioè tutta Europa sta aspettando noi per firmare questa riforma che porta dei miglioramenti è abbastanza assodato da parte di nuovo l'ho già detto nel podcast da parte di tutti gli osservatori economici non politicizzati la vedono come un miglioramento tutta l'Europa sta aspettando noi e questi parlano di momento storico per salvare l'Italia signori forse è meglio entrare nel futuro nel mondo videoludico distovico forse è meno distovico di tutto ciò